Il porto di Marina di Camerota si libera dal carroponte. Da ieri sono iniziate le operazioni di smontaggio della struttura in acciaio, ripristino del paesaggio e riqualificazione ambientale dell'area. Questi i motivi che hanno indotto la giunta comunale guidata dal sindaco romano a mettere in vendita il carroponte ora di proprietà di una ditta di Parma. I servizi portuali non saranno messi in discussione, si legge in una nota dell'ente, dal momento che per l'alloggio e imbarcazioni si provvederà ad acquistare una gru di dimensioni ridotte. La difesa e la valorizzazione delle nostre bellezze paesaggistiche insieme alla qualità dei servizi sono le uniche scelte possibili per rilanciare il territorio anche dal punto turistico, afferma il sindaco. Il progetto del nuovo waterfront con il miglioramento degli standard urbanistici delle attività private con la conversione dei dehors, ha continuato il consigliere Alfonso Esposito, permetterà al nostro lungomare di diventare tra i più attraenti del Mediterraneo.